Le pompe di calore da noi installate hanno funzione di raffrescamento, riscaldamento ed umidificazione per poter soddisfare al meglio le esigenze del cliente in ogni stagione. La pompa di calore esterna viene installata con degli appositi rialzi in gomma antivibranti sia nelle installazioni a muro che con quelle con basamenti a terra. Questo permette di ridurre al minimo i rumori di azione e funzionamento. La rumorosità della macchina è di solo 55 decibel. Tutti i sistemi in pompa di calore Wisman sono dotati della tecnologia inverter che permette di ottimizzare i consumi e aumentare la resa. Sono in classe A3PU e consumano 1600 watt a pieno regime per passare poi a un consumo di 800-900 watt a temperatura impostata. La DIA in piante elettrici è parte dell'ufficiale Wisman. I loro prodotti sono garantiti 3 anni e sono di grande qualità e affidabilità tedesca. Tutti i sistemi da noi installati sono gestibili da remoto su smartphone o tablet attraverso l'applicazione dedicata. Questo permette al cliente di controllare le temperature all'interno della propria abitazione anche in sua assenza. Alexa, accendi clima soggiorno a 23 gradi. Ok.